Un nuovo modello organizzativo consortile unico in Italia per fare sistema e valorizzare le varie espressioni del turismo abruzzese. Due linee d'azione, una per la valorizzazione dei territori, l'altra invece riferita ai prodotti, all'offerta. Complessivamente la regione metterà a disposizione 3 milioni 200 mila euro. Mauro Di Dalmazio, assessore regionale al turismo. La linea di organizzazione è questa, ci sono due linee. Una è l'organizzazione di compagnie e di consorsi che dovranno strutturarsi su destinazioni ampie, almeno operatori di 10 territori comunali che abbiano una omogeneità, che abbiano attrazione, che abbiano chiaramente dei valori turistici e quindi dovranno lavorare sullo sviluppo dell'offerta e di quel prodotto di destinazione, sul miglioramento della qualità del prodotto turistico della destinazione. Poi invece ci sono delle compagnie e dei consorsi che riguarderanno lo sviluppo delle quattro linee di prodotto che abbiamo indicato e che sono quelle dell'Abruzzo e che sono chiaramente aggregazioni che invece avranno una dimensione regionale evidentemente perché le linee di prodotto sono orizzontali e che tenderanno più alla strutturazione del prodotto e alla commercializzazione sui mercati. Quindi ci sarà anche complementarietà su questo. Lei ha detto in conferenza stampa che veramente c'è un modo nuovo adesso che inizia di interpretare il turismo nella nostra regione. La sfida del turismo oggi presuppone un approccio da vero e proprio comparto produttivo e in quanto tale un atteggiamento completamente diverso a livello istituzionale degli operatori. Quello che noi abbiamo fatto è proprio di andare a lavorare sullo sviluppo, sulla strutturazione dell'offerta e del prodotto turistico delle nostre destinazioni turistiche che oggi devono avere qualità, servizi per essere competitivi ed è il gap che noi abbiamo sempre sofferto. Quindi creare degli strumenti, incentivare degli strumenti che lavorino sullo sviluppo delle destinazioni e dei nostri prodotti turistici è un po' una, anzi è certamente una innovazione.